Salve brava gente, eccoci qua ritrovati su destra un empire perchè oggi abbiamo qua veramente qualcosa a chi ha a che fare con il logo di questo del mio canale due scatole arrivate da amazon due scatole differenziate di un ordine che ho fatto lo stesso giorno penso ma non fa mica niente perchè amazon ultimamente decide di spedire tutte le scatole differenziate va benissimo, viva l'ecologia una via una via l'altra l'ho già aperta nel video in giappone se non ci voglio di fare ancora la buffonata nel video in italiano cosa che abbiamo trovato dentro come al solito qua in giappone ormai arrivano tardissimo i prodotti della serie legacy e della serie stadio series la stessa stadio series, bumblebee qua è segnato come rambul ma questo secondo me è frenzy però vabbè è segnato come rambul passare alla rambul è un ottimo frenzy per me, sono solamente contento di averlo poi dalla serie energone universe megatron galvatron scusatemi un galvatron di questa serie l'avrei voluto forse avere un attimino più grosso ma va bene perchè lo metterò come veicolo di combattimento che magari parte dalla catapulta di chi dà l'uevo quando arriverà benissimo questi ok penso che non lo recensirò mai e poi quello che è il pezzo grosso di questa recensione è l'unico protagonista l'unica protagonista usiamo il femminile si parla di un altro capolavoro del maestro Yamashita Shunya per fortuna questo mi è arrivato con tanto di involucro protettivo e si parla del bisoggio di Starscream e vado via di testa vado veramente via di testa e adesso ce la gustiamo con molta calma vediamoci godiamoci un po' veramente questa scatola che già la scatola è un capolavoro in se stesso vediamo proprio il viso qua di questa per prima cosa vediamo transformer bisoggio statue e poi la linea il marchio della linea bisoggio qua così e vediamo anche Decepticore Air Commander Starscream la dicitura in inglese abbiamo il logo della Takara Tomi e il logo della kotobucchia qua così e vediamo la nostra Starscream qua così l'illustrazione di questa statua e vediamo che ha proprio questo viso come dire proprio bramoso 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 e ambizioso da Eterno da Eterno a numero seconda numero due e però è veramente proprio un viso di qualcuna che sta tramando qualcosa è proprio ottimo mi piace perché prende proprio l'essenza della natura di Starscream qua dietro anche questo è bellissimo perché abbiamo questa illustrazione fantastica di Starscream con la sua versione bisoggio qua davanti e abbiamo la nostra Starscream con i punti salienti che sono il marchio di di distruttore che fa da piedistallo le ali di Starscream che sono piegate e messe tipo zaino solamente da una parte e il cockpit qua qua che praticamente diventa una cravattina gialla poi qua vedete il primo piano di questa bisoggio e poi abbiamo la dicitura in giapponese Destron Kokusam Bostaskari notevole notevole davvero e diciamo che possiamo anche andare ad aprire la nostra statua e vediamo qua anche l'illustrazione di Megatron di Megatron Grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vorrei che deste un'occhiata a questo sfondo qua che non è altro che il cartoncino che troviamo dentro la scatola. Il cartoncino che si trova dentro la scatola che è uno sfondo distruttore. Nel senso che ha proprio il logo distruttore qua dietro, tutto nero, con le strisce così viola, il logo viola, più distruttore di così si muore. Se volete potete tirarlo fuori, rimetterlo nella scatola. Va bene così. Adesso andiamo a godersi la nostra Starscream che più la vedi da vicino e più ti accorgi che ancora questa volta Koto Gucchi ha fatto un capolavoro. Perché oltre al viso che è Starscream, anche proprio come ha riuscita a mettere i particolari che danno, che sono un po' tipici della molte di Starscream e dei tregettoron in questa figura femminile è incredibile. C'è il cockpit che diventa una cravatta, poi le due prese d'aria che diventano delle specie di tasche, la parte dal gomito in su delle mani di questi guanti blu, infatti riproposta con questi guanti blu, perché ricordiamoci che nonostante Starscream sia uno dei personaggi più bastardi della serie Transformer, ha questa colorazione veramente, tra virgolette, eroica, tipo bandiera americana come colorazione, no? E poi comunque la cosa che a me ha più impressionato, che non si riusciva a capire tanto magari dalla foto, è come sono riusciti a dare volume e una parvenza di credibilità, anche una personalità, a questo zaino stranissima forma di ali che c'ha sulla schiena Starscream. Perché vedete che sì, anche queste maniglioni che ha in mano, eccetera, che sanno tanto di materiale sintetico come quelli che si usano adesso, poi questa catena, che è molto, sembrava molto piatta e invece molto 3D se vogliamo, ecco quel marchio dei distruttori, un po' come le catenine qua in Giappone tipico, dove tutte le roiettine riceali vanno in giro con tutti questi oggettini attaccati alla borsetta di qua di là, eccetera, e questo riprende molto. Poi se vediamo l'ala qua dietro, vediamo che ha delle pieghe qua, che fa capire che non è un materiale duro, non è metallo, non sono le due ali piegate a metà che si mette sulla schiena, ma è un materiale morbido, o tessuto, comunque ripeto, materiale sintetico probabilmente, di questo zaino, e vediamo che capiamo che è zaino, perché vedete che in mezzo alle due ali c'è questo mega cernierore, è veramente, chi si è inventato sta a fare qua è un grande, è proprio uno zaino, è veramente, sono dei geni questi la kotobucchia, specialmente il maestro Yamashita. Vediamo che anche qua il gondellino ha delle, dove ci sono le pieghe qua, vediamo che la parte, questa parte dentro delle pieghe è colorata in grigio, ottimo, 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 davvero, e poi vediamo il logo di distruttore qua sotto, con anche le scarpe col tacco, che sono blu anche queste, e tra l'altro le giarrettiere, più di così cosa vuoi. A proposito, questo l'avevo detto anche nel video giapponese, è un peccato che non, se vogliamo, una cosa che mi avrebbe fatto piacere come variazione del viso, c'è quell'altro viso opzionale della versione venduta solamente dal kotobucchia store, che è per favore perdonami Megatron, con la faccia di Starscream che piange, però, visto che è una Bishoujo, avrei voluto magari anche un viso con una coroncina, una cosiddetta tiara, magari da mettere tipo solamente in fronte, dorata, da simulare la corona. Non mi sarebbe dispiaciuto, devo dire la verità, e mia moglie fa, guarda che a casa nostra c'è questa, ma, sì, questa è un po' troppo grossa, è la mucca, è la tiara della mucca carolina che ho trovato nell'uovo di Pasqua, ma cosa possiamo perdere? E andiamo avanti. Per prima cosa direi che possiamo andare a confrontare la nostra Starscream con lo Starscream originale, innanzitutto vi chiedo scusa se ho solamente questo piccoletto che è il Revoltek ormai dei tempi passati, anzi, spero, visto che la Revoltek al Kaiodo hanno buttato fuori la nuova versione di Convoi, spero che la nuova versione di Megatron e le Starscream la facciano anche a prima o poi, e vabbè, comunque, l'unico Starscream agibile che potevo tirare fuori in 4-4-8, era questo, e comunque, vediamo, li ho messi vicini solamente per accorgersi come i particolari, la colorazione di questa Starscream sono veramente fedeli allo Starscream originale, per quanto riguarda il blu, qua nelle gambe, eccetera, le giarrettiere che sono diventate qua le ginocchiere, poi, prima avevo sbagliato a dire, le prese d'aria qua, sì, qua abbiamo sulle, poi ci sono le tette che sembrano due delle prese d'aria, invece, qua, nello Starscream originale, sono tipo dei rotori, le prese d'aria più rotonde, il fatto che se andiamo a mettere delle prese d'aria rotonde qua così, sembrano veramente le tette, per cui non potevano fare altro che cambiarne un attimino qua. Poi, la cosa che fa impressione è vedere qua queste ali, se vogliamo, ecco, potevano fare la parte esterna rossa, se volevamo, ecco, però anche queste bretelle che tengo, con cui Starscream ha in mano lo zaino, praticamente, che sono rosse, vanno a replicare questa parte qua rossa. E adesso, finito il confronto con lo Starscream originale, direi che possiamo andare a mettere vicino a questa Starscream, ovviamente la sua capa Megatron, e penso che meglio di così, gli appassionati di Destructor non vorrebbero. E poi, perché no? Visto che abbiamo Megatron, possiamo mettergli vicino l'altra, Bishogia, che è uscita sempre qua, in questa gamma, e cioè Nemesis Prime, detta anche Black Convoy. E vediamo di queste tre, ci accorgiamo subito, che questa Starscream ha uno stand, con il logo di Destructor come gli altri, più piccolo. Più piccolo perché ha i piedi, non divaricati come queste due, ma posizionati più vicini. E ti permette di avere uno stand più piccolo, e questo vi assicuro che è una bella cosa. una bella cosa perché prende meno spazio. E poi se uno vuole collezionare tutti e tre Thundercracker e Skywarp, magari, io non me lo potrò mai permettere, anche se Skywarp è il mio personaggio preferito, dei tre. Ha meno problemi di spazio, ecco. Queste sono ottime, però lo stand così grosso prende un po' di spazio. Ma comunque è un qualcosa di stupendo. Poi alla fine, è inutile, ci vuole Soundwave. Soundwave per fare i tre big dei Destructor. Megatron, Starscream e Soundwave. Ci vuole assolutamente Soundwave, il fatto che non so come... Prendere Soundwave una B-Shojo non è facile, anche perché se hai Soundwave devi avere per forza anche i cassettoroni, i suoi robottini. E Jaguar e Condor sono abbastanza facili da fare. Puoi fare un gattino e un cello neanche troppo grosso, eccetera, che fa da Condor. Per il resto, Frenzy e Rumble, lasciamo perdere Rattobat, eccetera. Frenzy e Rumble, non so come li fai. Doresti fare dei bambini, a questo punto. Non so, Soundwave sarà un po' difficile da fare, ma mi auguro che veramente la Kotobukiya li faccia. Perché Black Convoy è una cosa che vogliamo... Sì, hanno fatto con voi, allora ci mettiamo a Forengblad con voi. Ma però, per avere gli struttori completi ci vorrebbe Soundwave. Mi auguro che veramente, veramente, Kotobukiya ci faccia a questo favore. Siamo arrivati alla fine del mio video per questa bellissima altro capolavoro del maestro Yamashita e da una votazione da 0 a 10, 9, sicuramente perché è bellissima questa figura, questa statua. Gli avrei dato anche magari quasi 10. C'aveva magari la tiara, la culoncina dorata da mettere in testa, ma come opzione gli avrei dato anche 10. Ma comunque è veramente ben fatto come figura. Sono tutti particolari, riesce a raccogliere l'essenza di Starscream e farla diventare una B-Solder. C'è una cosa fuori dal mondo, però ci sta veramente bene. Benissimo. Magari entrerà fra i robot le robot dell'anno, questa fra i Destronbot dell'anno, quell'anno scorso ho fatto la classifica anche solamente per i personaggi femminili, anche perché c'era la Nemesis e mi è stato facile. Quest'anno, fino adesso, di personaggio femminile, di robot femminile, o solamente, se può essere definito robot, o solamente questa, per cui sarà difficile fare una classifica a parte, comunque vedremo. Poi c'è solamente da augurarsi, innanzitutto, che esca anche Soundweb, soprattutto che la Kotobukiya vada avanti, come ditta, perché in realtà, forse in Italia se ne parla poco, la Kotobukiya è stata rilevata per quanto riguarda gran parte delle percentuali delle azioni dalla Asahi Television, ma non si sa alla fine che fine farà, ecco, non si sa che fine farà, però di preciso, come ditta, io mi auguro che continui, perché su tante cose, anche le statue di Guerre Stellari, Star Wars, eccetera, ha fatto tante belle cose la Kotobukiya, e sono delle statue veramente ben fatte, in generale, proprio anche come size abbastanza facili da collezionare, non sono enormi, non sono in polystone che si rompono solamente a vederle, ed è proprio un po' perfetto per l'ambiente qua nipponico, ecco, se vogliamo, per quanto riguarda come dimensioni, come rompibilità, eccetera, e il prezzo non è economico, però non ha dei prezzi impossibili, per cui spero che veramente vada ancora avanti, come ditta. Benissimo, grazie per la visione, e ci vediamo sui prossimi video di Destron Empire, ciao ciao, brava gente, ciao.